Torna al Travalli Tour Motorrad 1, domenica 3 luglio da Cavallini Moto a Voghera, si parte per visitare le vie della città e le bellissime coline dell'oltrepropa vese. Per maggiori informazioni visita cavallinimoto.it Un nuovo piano di sicurezza per combattere l'abitudine di andare troppo veloce quando si ha la guida, questa è la novità che riguarda il comune di Voghera, una novità che sicuramente la farà felice. Sì, buongiorno, sicuramente sì, ho preso questa notizia con molta felicità, prima di tutto perché tutte le accuse che mi sono state date per raccolte firme, petizioni per i sidi banali, superficiali e senza senso, probabilmente tutto questo sforzo ha prodotto anche un contributo minimo magari però per questa realizzazione del progetto. E da un punto di vista invece concreto sono contento perché effettivamente questo problema dell'alta velocità ormai è diventato un grosso problema. E quindi io sono convinto per anche il mio modo di vivere che rispettare le regole è etica sociale e nel momento in cui non c'è capacità di rispettare le regole è giusto sanzionare perché è l'unico modo per far capire la gente. Grazie. Grazie.